Buongiorno a voi, qui sono le città. Vi siete svegliati presto per fare questo collegamento con noi, in esclusiva, per raccontarci quello che state facendo con l'Associazione Mondi Lucani, con la Regione Basilicata. Avete inaugurato una collettiva, una mostra dedicata ad un artista lucano, un bellissimo momento, la Basilicata protagonista. Raccontaci questo momento, che cosa state facendo e guardiamo insieme anche le immagini. Sì, queste sono le immagini del circolo italiano di Buenos Aires, dove abbiamo inaugurato la mostra dedicata a Thomas di Taranto, lo scorso 24, una mostra che mette però in connessione il passato e il presente, perché oltre a Thomas di Taranto, questo nostro lucano nato nel 1904 ed emigrato qualche anno più tardi a Buenos Aires, abbiamo anche 4 artisti lucani, Giovanni Spinazzola di Noventura, Maria di Taranto e Antonio Cillis, ecco che vediamo nelle immagini che abbiamo messo insieme in connessione questi due mondi del presente, dell'oggi e del passato con Thomas di Taranto, con l'obiettivo di completare una delle azioni per valorizzare questo lucano illustre che è conosciutissimo qui a Buenos Aires in Argentina, che ha lasciato tantissimi segni della sua arte, con l'obiettivo appunto dicevo prima di un'azione di valorizzazione di questo lucano illustre che Mondi Lucani è candidato a diventare anche personaggio del museo di Castella Gopesole, museo dell'immigrazione lucana. Abbiamo inaugurato la mostra il 24 scorso alla presenza del console d'Italia Marco Petacco, con la presenza anche della regione basilicata, in rappresentanza c'era il capo di gabinetto Michele Busciolano, proprio a testimoniare l'importanza di questa iniziativa, iniziativa progetto che è stato sostenuto dalla regione basilicata, che ha avuto un ruolo importantissimo perché chiaramente ha attivato tutta la rete di conoscenze istituzionali innanzitutto e con la federazione delle associazioni dei lucani nel mondo e le associazioni. Importante è stato il ruolo della famiglia di Taranto, con la quale siamo in contatto già da diversi anni, da quando abbiamo iniziato questa attività di studio, di questa personalità, di questo artista tutto tondo, pittore, scultore, incisore, che appunto ha lasciato un segno importante in quella che è l'arte argentina. Un lucano che mai ha dimenticato le proprie radici perché nel 1951 è ritornato appunto a Montescaglioso diverse volte a partire da quella data, in cui ha ripreso i legami con la famiglia, ma anche con il mondo artistico lucano, infatti ha ritratto moltissimi scorci del suo Montescaglioso, ma anche dei sassi di Matera. Bellissima, assolutamente figura che avete messo in rilievo in maniera impeccabile, devo dire, ma poi abbiamo visto quella platea numerosissima, c'era tanta gente, questo ci può sicuramente consegnare una lettura sul momento che avete vissuto. Possiamo parlare di un successo, di una soddisfazione per la regione Basilicata? Assolutamente sì, per la regione Basilicata e per noi erano presenti tanti studiosi, erano presenti i nostri italiani e abbiamo avuto modo anche, lo state vedendo nelle immagini, di fare anche un'azione di promozione territoriale, poiché abbiamo presentato una cartolina di Montescaglioso, il paese nativo di Tomas di Taranto e anche una cartolina di Pietragalla, che sono stati i due comuni che hanno patrocinato l'iniziativa. Vediamo in questo momento anche l'intervento di un importante critico che abbiamo coinvolto in questa iniziativa, e il professor Baroni, critico riconosciuto in Argentina, che appunto ha tenuto una relazione su Tomas di Taranto. Il coinvolgimento della famiglia, la famiglia di Taranto e Tarulla, l'abbiamo appena visto, che hanno collaborato sin dall'inizio e che continuano a collaborare con noi, perché l'opportunità di realizzare questa importante mostra e soprattutto il seminario su Tomas di Taranto, ci dà l'occasione di un recupero di tantissimo altro materiale, di documentazione, di fotografie e soprattutto di testimonianze, testimonianze che ci consegnano un uomo, un lucano, un genio eccezionale che ci appartiene. Ecco, vediamo alcune opere che sono caratterizzate da questo carattere appunto che si chiama costumbrismo, questa particolarità di Tomas di Taranto, che è quella appunto di ritrarre i costumi e le popolazioni argentine, soprattutto nei loro momenti della giornata e di lavoro. Ci consegnano le testimonianze, dicevo prima, un uomo assolutamente generoso, un nonno tenero come ci hanno raccontato i nipoti, molto legato alla sua terra d'origine, infatti il titolo che abbiamo dato, abbiamo voluto dare alla mostra, è cieli differenti, perché? Perché Tomas di Taranto ogni volta che tornava in Basilicata, dalla Basilicata, diceva di amarne i tanti cieli diversi. E' una legge che possiamo restituire all'attaccamento che i tanti lucani nel mondo hanno nei confronti della regione Basilicata, ovviamente, e voi come portate avanti questo lavoro importante di valorizzazione e di connessione con i tanti lucani che sono in giro per il mondo. Grazie per averci fornito dettagli su questa iniziativa, torneremo a parlarne nei prossimi giorni. Torneremo. Con molto piacere. Sì, assolutamente. Grazie a voi. A presto e buona giornata. Un saluto a tutti quelli che sono insieme a voi. Grazie a voi.